Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Plato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili code in uscita a Lastra in direzione Mare e a Cascina in direzione Firenze, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandici e Lastra a Signa. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Imprunita Greve e Inchianti e Rallacciamento per la 1. Sulla tangenziale Ovest di Siena, rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra Siena Nord e Siena Acqua Calda. Sulla A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Pisa Nord in direzione Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.